Edizione numero 123 per il Palio della Stuzza, evento in programma come ogni anno il 14 agosto a Santa Maria di Castellabate. Sulla scogliera del lungomare Perrotti a partire dalle 16.30 saranno 30 i partecipanti rigorosamente residenti nel comune cilentano a sfidarsi a camminare su un palo di legno lungo ben 18 metri lubrificato con grasso animale. Abilità fisica, una buona dose di equilibrio e un pizzico di sana follia sono gli ingredienti principali per prendere parte allo storico palio in cui i giocatori con un alto tasso di rischio di scivolare hanno l'obiettivo di acciuffare le tre bandierine posizionate a 14, 16 e 18 metri di distanza. Ad organizzare il Palio della Stuzza l'associazione Cilentani Doc ma quest'anno l'evento diventato ormai manifestazione cardine dell'estate cilentana rientra nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Santa Maria a Mare grazie alla collaborazione tra Cilentani Doc, il Comitato Festa e la Confraternita di Santa Maria a Mare. La 123esima edizione è una cosa favolosa, è una soddisfazione, manteniamo sempre questa tradizione e quest'anno ci sarà lo spettacolo in piazza il 17 anche offerto dal Comune di Castellabate con la pizzica da Taranta dalla Puglia e là faremo anche la premiazione dell'Astuza. Io l'ho vinta nel 2018, l'ultima volta e quello che bisogna fare è camminarci piano piano senza far vibrare il palo sotto perché alla prima vibrazione si scivola. Per arrivare fino alla fine è faticoso.